Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto tappeti tappeto Gabel Home. Questi tappeti vengono realizzati in India e sono famosi per i motivi un po' infantili, primitivi, dal fascino rustico. I tessitori indiani tragano gran parte dell'ispirazione dei corrispettivi tappeti persiani. Normalmente la lana usata è di buona qualità. Sono tappeti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lavorazione, hanno dato a mano. Spessore circa, millimetri. Pelo, lana. Ordito, cotone. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazonity, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.